Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di avviso scoperto l'informazione senza veli. Quindi oggi, come dice il titolo, ovvero Odissea di un padre per riavere i suoi figli, ci occupiamo dei bambini sottratti. Ecco, perché diciamo che dopo l'ecomediatica di Bibiano, dove sono stati puntati i fari di tutta l'informazione mainstream, poi come sempre ci si dimentica di tutto, cara al silenzio, però purtroppo questi casi vanno avanti e con una drammaticità veramente incredibile. E nessuno ne parla. Invece è importante parlare di questi casi e questa sera parleremo del caso del signor Antonio. Lo facciamo insieme all'avvocato Andrea Oddo. Buonasera e benvenuto. Salve, buonasera. Alla dottoressa Francesca Bagaglia, psicologa. Buonasera e benvenuta. Buonasera a tutti. E al signor Antonio, che è il papà di Carlo e di Antonia. Buonasera e benvenuto. Salve, buonasera a tutti. Allora, io darei subito la parola all'avvocato Oddo, se può introdurci questo caso. Sì, si tratta di un tipico caso che non vorremmo mai affrontare, ma ormai temo che sia giunto il momento di occuparcene anche pubblicamente. Il caso del mio cliente, del signor Antonio, è molto particolare, però non raro, diciamo. Lui sostanzialmente, fino al dicembre dell'anno scorso, fino a novembre dell'anno scorso, aveva una famiglia normale, aveva una compagna con cui aveva due figli, con cui ha due figli, e improvvisamente tutto questo è finito, nel modo veramente più incredibile. Nel senso che il signor Antonio aveva qualche problema con la compagna, ma sostanzialmente non si trattava di problemi veramente gravi, tant'è che la compagna era andata più volte da carabinieri, politica, assistenti sociali, a lamentare, diciamo, maltrattamenti e così via, ma tutti avevano rilevato che si trattasse di cose non gravi, tra virgolette, tanto che infatti nessuno era mai intervenuto. Improvvisamente, il giorno 25 del mese di novembre del 2022, uno dei due figli del signor Antonio, Carlo, si recca dalla psicologa della scuola e comincia di sua spontanea volontà a contare di una serie di, per così dire, di violente, chiamiamola violente, insomma, che a suo dire sarebbero state perpetrate contro di lui. e narra di botte, narra di palpeggiamenti, narra di ferite riportate, che sarebbero state inferte da questo padre. La psicologa prende nota e subito riferisce alla direttrice della scuola, scatta la segnalazione alle autorità competenti, in questo caso ai carabinieri. Dopodiché, abbiamo qualche giorno dopo un evento piuttosto singolare, nel senso che il bambino, tornando a casa, come è capitato più volte, passa davanti al padre senza neanche calcolarlo e si reca dalla madre, dicendogli appunto che sostanzialmente ha fatto gol, cioè nell'allenamento di calcio ha dato benissimo e ha segnato un gol. Il padre gli chiede, ma perché non mi parli, perché non me lo dici? Tra l'altro il padre è l'allenatore nella squadra di calcio dove il bambino gioca. E dice, ma io a te non dico nulla. E così, punto, basta. A questo punto lui si innervorisce e se ne va, andando e se ne dà un calcio all'albero di Natale. A quel punto la compagna lo raggiunge, urlandogli, e gli sferra un pugno. Gli sferra un pugno. Lui le dice, guarda, non farlo più perché altrimenti devo reagire. E lei gliene sferra un altro. Dopodiché lui la colpisce con uno schiaffo. E diciamo che il bambino in automatico chiama i carabinieri. Il bambino aveva già il telefono in mano, con il numero selezionato, e vengono chiamati i carabinieri. Interviene la polizia in realtà, che redige un verbale, dove riporta che la signora effettivamente ha ammesso di avere colpito l'uomo. Dopodiché gli stessi poliziotti dicono che effettivamente i bambini sembrano indotti a parlare dalla madre. E la madre stessa dice, prima che il bambino è stato picchiato, poi lo nega. E gli stessi poliziotti verbali in cui dicono noi non abbiamo ravvisato elementi di particolare rilevanza. E quindi insomma non deteniamo di lasciare i due in casa, di non attivare nulla di particolare. Perché si sarebbe trattato soltanto di uno screzzio e nulla più. Questa è insomma sintesi il verbale raddatto dalla polizia. Polizia di Stato. Dopodiché il giorno seguente, mentre il signor Antonio è al lavoro, la compagna, che è una signora brasiliana, non è italiana, si reca presso i carabinieri e praticamente sporge quella è la contro il signor Antonio, accusandolo appunto di vari maltrattamenti verso il bambino e addirittura appunto di toccamenti nelle parti intime. Il giorno dopo il signor Antonio torna a casa, non trova più i figli. I figli sono stati, anzi non sa nulla, non ha idea di cosa sia accaduto e chiama i carabinieri. I carabinieri gli dicono sì effettivamente dobbiamo notificarti, in un attimo qui in centrale che dobbiamo darti una notifica. E gli notificano un provvedimento in cui ex articolo 403 del Coggio Civile, l'autorità è intervenuta per allontanare i figli da casa e portarli in località sicura e protetta, e segreta soprattutto. Punto. Quel punto, lui dice ma a questo punto cosa devo fare? I carabinieri gli rispondono, va vatti a guardare un film. Questo uomo disperato torna a casa e comincia il suo calvario. Un calvario che dura tutt'oggi. Si aprono due procedimenti, un procedimento penale contro il signor Antonio e un procedimento civile presso il tribunale dei minorenni. Il giudice per i minorenni ascolta, chiede, praticamente fissa un'udienza per sentire i due genitori. Si presenta il signor Antonio e la signora non si presenta. Lui racconta la sua storia, racconta con una sincerità disarmante, devo dire, veramente tutto quello che voleva dire al giudice e non possiamo sentire la signora perché la signora non si presenta, decide di non presentarsi. Questo sembra non avere alcuna rilevanza. La signora tra l'altro viene portata nella comunità di accoglienza insieme ai bambini, ma sostanzialmente la signora, cioè la misura era verso i bambini, non verso di lei, però lei può scegliere di andare con loro e ci va. Punto. Stando così le cose, il signor Antonio comincia ad essere prima ascoltato appunto dal giudice per i minorenni e chiede in tal serie di poterlo dare, dato che si avvicinava a Natale, addirittura una bambolina per sua figlia e una macchinina per il bambino all'avvocato in modo che in qualche modo li faccia avere, magari tramite i servizi sociali, ai figli. Il giudice nega assolutamente questa possibilità, non deve essere dato nemmeno questo dono. Dopodiché, dopo circa un mese, forse anche qualcosa di più, il tribunale penale fisso un incidente probatorio per ascoltare il minore, che viene ascoltato da una psicologa. Il padre e i legali possono vedere questa, diciamo, questa discussione tra la psicologa e il bambino con una telecamera separata, in cui una telecamera appunto che collega un'altra stanza dove si trovano legali appunto e, diciamo, i legali appunto è il signor Antonio e, diciamo, si può vedere questo bambino, parla tanto al tramite il monitor, il signor Antonio non si può avvicinare in nessun modo e quindi tutti noi abbiamo ascoltato appunto quanto aveva da dire il bambino circa le condotte del signor Antonio. Condotte che, a mio modo di vedere, io difendo il signor Antonio, ma ho immediatamente una serie di contraddizioni che ho segnalato al giudice e sostanzialmente da quel momento in poi viene nominata la consente tecnica d'ufficio del giudice per indagini preliminari, che è una psicologa, e la psicologa inizia un'indagine per capire se il bambino sia sostanzialmente capace di raccontare i fatti, cioè se praticamente si è in grado di avere una sua versione autonoma dei fatti, poterli quindi riferire in modo plausibile. Punto. Intanto passano i mesi e i servizi sociali a cui sono affidati i bambini e anche la madre, che vive con loro, ripeto, la madre ha subito, come il padre, un provvedimento a parte del tribunale dei minori. Gli è stata praticamente sospesa la capacità genitoriale. È stata sospesa ad entrambi i genitori, però la madre può stare con i figli. Punto. Il padre ha queste, diciamo così, queste imputazioni, queste indagini in corso, proprio per quanto riguarda questi atteggiamenti presuntamente violenti verso il figlio e le indagini appunto fanno il loro corso. Le indagini fanno il loro corso e viene depositata una relazione dei servizi sociali in cui si dice che insomma il signor Antonio è una persona tranquilla e la madre dà qualche problema anche nella comunità. Addirittura viene riferito che, diciamo... Avvocato, ancora un minuto, poi dobbiamo andare in pubblicità, e dopo di che praticamente gli servizi sociali stessi dicono che sarebbe ormai il caso, dopo diversi mesi, di agevolare i rapporti tra i figli e il padre. La CTU, la consulenza tecnica d'ufficio, è in corso ed io faccio la prima istanza per cercare di far sì che il padre possa vedere i figli. In prima istanza è rigettata. Ne faccio poi una seconda, faccio successivamente una seconda, quando vedo che la CTU ormai è terminare e vedo che sostanzialmente non vi è motivo, a mio modo di vedere, per cui il padre non deve vedere i figli, quindi è rigettato ugualmente. Dopodiché arriva la CTU che ci dice appunto che ci conferma quello che dicono i servizi sociali. Faccio una terza istanza del tribunale, terza istanza, non ho ancora avuto esiti dopo più di due mesi. Il fatto sta che questo uomo da dieci mesi non vede i figli, senza uno straccio di prova. Insomma, in Italia si dice innocente fino a prova contraria, ma adesso vedremo meglio, nel proseguo della trasmissione, in questo caso sembra che il signor Antonio, viceversa, sia ritenuto colpevole ancora prima che sia finito il processo a suo carico. Allora, ci fermiamo qualche istante per pubblicitare, state con noi perché abbiamo veramente cose molto importanti da dire. Ecco, siamo di nuovo in onda. Allora, l'avvocato Oddo ci ha spiegato insomma per grandi linee la situazione. Prima adesso di dare la parola al signor Antonio, vediamo insieme questo verbale della polizia che è intervenuta per questo litigio che insomma, in un ambito familiare, purtroppo, alle volte può succedere, non è una cosa tragica, non si è fatto mai nessuno, non è successo niente né di irreparabile assolutamente. Ecco, e proprio dal verbale, perché dico, vediamo insieme perché da questo verbale sono gli stessi poliziotti che scrivono delle cose che insomma, io quando l'ho lette le ho ritenute abbastanza sicuramente fondamentali. Ecco, prego regia, la prima slide. Allora, cosa scrivono? Una telefonata inoltrata da un bambino sulla linea di emergenza 118 il quale riferiva che il padre stava malmenando la madre. Giunti celermente in luogo si avvedevano della presenza di una donna trafelata la quale tenendo vicino a sé i suoi due figli sosteneva superficialmente quindi questo è importante sosteneva superficialmente che il marito li aveva picchiati. Ecco, questa è già una prima cosa che fa riflettere che la polizia scriva sosteneva superficialmente. Vediamo la slide successiva regia per favore. L'uomo seppur piuttosto agitato si mostrava fin da subito collaborativo nel riferire cosa fosse accaduto. Asseriva che poco prima aveva rimproverato il figlio maggiore. La madre come di consueto prendeva le difese del figlio a tal proposito specificava che sua moglie da molto tempo ormai ha persuaso entrambi i figli a star lontani da lui senza alcuna ragione. L'uomo si infastidiva e con un gesso di stizza prendeva a calci l'albero di Natale danneggiandolo. A quel punto la donna lo avvicinava e gli sferrava un pugno sul volto. A sua volta rifilava un ceffone alla moglie la quale esortava il figlio più grande ad inoltrare la chiamata di emergenza e riferire che suo padre la stava malmenando. L'uomo ammettendo le sue responsabilità poneva in evidenza una difficile convivenza con sua moglie responsabile a suo dire di allontanargli i figli. Comunque l'uomo garantiva che mai prima d'ora lui e sua moglie erano arrivati alle vie di fatto. Quindi anche la polizia scrive che il signor Antonio è molto collaborativo che è sincero. Vediamo l'ultima parte di questo verbale per favore regia. A specifica domanda la donna a differenza di quanto asserito poco prima riconosceva di aver colpito suo marito e quindi qui si evince che da due versioni diverse dei fatti la compagna del signor Antonio mentre continuava seppur in modo poco convincente a sostenere che suo figlio Carlo era stato picchiato da suo padre in modo poco convincente lo sosteneva questo la madre lo sosteneva in modo poco convincente il minore di fronte alle prospettazioni della madre avvalorava essenzialmente perché indotto dalla donna e questa è una parte molto importante poi la psicologa la dottoressa ce lo spiega meglio indotto regia me la lascia la slide per favore indotto dalla donna quest'ultima aggiungeva che da molti anni la convivenza col marito si è fatta vivia sempre più difficile scattorendo molte incomprensioni le quali a volte sfociavano in liti solo in un'occasione le riferiva di essersi rivolta presso una non meglio identificata struttura per esporre le sue problematiche grazie regia ecco signor Antonio insomma è un litigio che purtroppo in famiglia può capitare lei si sarebbe mai aspettato che da lì sarebbe successo sarebbe stato precipitato in questo incubo ci racconti un po' come sono andate le cose allora intanto ringrazio tutte le persone qui presenti alla redazione per lo spazio che state dedicandomi non mi sarei mai aspettato nella mia vita di vivere un dramma del genere anche perché dopo mesi e mesi di indagini ci sono due relazioni schiaccianti agghiaccianti e che hanno rilevato delle cose inaudite che questa madre questa donna viveva una doppia personalità viveva diciamo tutte delle sue robe mentali e grazie a tutti